ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata oggi vorrei fare un video di ringraziamento per tutte le persone che si sono iscritte negli anni a questo canale oggi abbiamo raggiunto la quota di 10.000 iscritti e questo mi fa davvero tanto piacere soprattutto perché sono partito praticamente dal niente mi ricordo ormai sono cinque anni mi ricordo all'inizio le difficoltà proprio a far sì che avere un piccolo pubblico che vedesse i miei video ecco con i giorni con i mesi gli anni sicuramente si è creata una community non è una community enorme ma sicuramente è una community che è sempre cresciuta e questo è per me un motivo di grande piacere in particolar modo vorrei ringraziare le persone che mi hanno aiutato francesco mi ha prestato un orologio sergio mi ha prestato più di un orologio monica la mia amica monica mi ha prestato il suo jagele manuel maggioli ha avuto appunto l'onore di poterlo ospitare presso il mio canale abbiamo fatto con lui ben quattro video a proposito dei seiko vi invito appunto a vederli credo che sia stata un'occasione veramente bella per questo canale di poter aver avuto un personaggio ecco una una persona così preparata nel mondo della della seiko poi c'è stato il mio amico alessio del frate che mi ha molto aiutato anche lui ha partecipato e partecipa costantemente a questo canale sicuramente lo ha arricchito con il suo punto di vista e anche mi ha prestato degli orologi tra cui eccoli vc portoghese e l'omega speed master veramente mi ha dato l'occasione l'opportunità per potervi presentare dei pezzi delle veramente dei pezzi fondamentali della dell'orologeria poi sicuramente ecco voglio non servirebbe neanche ma sicuramente voglio nominare anche il mio amico piccino che mi ha portato mi ha accompagnato durante le riprese delle delle moto sicuramente anche oltre a fare il cameraman ha anche dato un qualcosa in più un contributo particolare perché insomma è molto riconosciuto e molto spesso viene salutato ecco nelle nei video quindi vuol dire che sicuramente le persone lo hanno notato ecco inoltre il mio fratello mi ha prestato diversi seico che sono che sono suoi e anche lui mi ha supportato in questo in questo viaggio che mi ha portato letteralmente da zero da zero iscritti a 10.000 iscritti ecco veramente era stata una cosa inaspettata sinceramente quando sono partito ora sembrerà strano ma io puntavo ad avere 100 iscritti e sinceramente mi ci ha voluto un bel po' per per arrivarci considerate che in italia nel 2015 non esisteva assolutamente una community non esisteva un gruppo di persone che seguisse youtube che seguisse gli orologi su youtube sicuramente c'erano dei forum sicuramente che erano già avanti c'erano dei siti ma non esisteva ancora una community a livello italiano ecco penso che gli italiani guardassero video molto più famosi insomma video più di youtuber molto più famosi a livello internazionale quindi c'è stata molta molta fatica oggi esiste c'è una un gruppo di persone molto attento che che segue i canali di youtube che riguardano l'orologeria e questo mi fa mi fa molto piacere e mi fa anche piacere essere stato una una parte di aver contribuito ecco seppure minima misura alla creazione di questo di questo gruppo anche per quanto riguarda le moto sono veramente contento sto facendo i corsi naturalmente ne sto facendo pochi perché il tempo a mia disposizione il tempo che il mio lavoro principale mi mi occupa non è è tanto quindi non ho tantissimo non ho tantissima disponibilità di giorni per poter fare corsi però piano piano riusciremo ci sono tante persone che mi contattano e piano piano riusciremo appunto a fare anche questi corsi per tutte per tutte le persone insomma ecco che lo richiedono sicuramente ecco il fatto che gli iscritti sono aumentati mi ha dato visibilità questa visibilità mi mi ha dato la possibilità di conoscere altre persone persone che hanno pezzi anche vintage pezzi di importanza come rolex vi anticipo che presto sarò in grado di recensire un rolex submarinar quindi state appunto in ecco tenetevi pronti perché poi farò anche delle delle comparazioni con altri con altri orologi e questo rolex submarinar quindi veramente credo che il canale si stia entrando da stia passando da una fascia bassa cioè sotto i 1000 euro ha la possibilità di recensire anche anche orologi di fascia di fascia media cioè quelli che superano i 1000 euro vi dico che ci saranno continueranno i video sulle tecniche di guida saranno ancora di più man mano che li faccio me ne viene in sempre sempre di nuovi sempre video che riguardano e che possono essere utili anche da un punto di vista della della sicurezza su strada ecco non mi fermerò quella è la cosa principale allo stesso modo come ho già detto ritengo e invito tutti a fare corsi di guida perché il per quanto il video online possa essere utile possa dare delle informazioni che possono essere anche proprio utili poi è importante anche farsi vedere da un vero e proprio istruttore naturalmente non sarò non sono io l'italia è grande sicuramente ci sono istruttori più bravi di me più preparati di me ecco cercateli e fate un corso di guida questo è quello che veramente mi sento di poter di potervi consigliare non fate un corso di guida soltanto con un con un istruttore ma cercate anche di cambiarli cioè fate tutto quello che dovete fare uno due tre corsi di guida con lo stesso istruttore poi cambiatelo cercate nuovi istruttori nuove nuove persone questo è il messaggio ecco che mi sento di dire a questo punto io vi saluto vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima puntata come sempre se vi è piaciuto il video mettete un like se lo ritenete opportuno iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata ciao a tutti